Il seguente trailer è stato censurato con annunci sonori perché troppo spinto per essere trasmesso in sala. Potrete vedere la versione integrale sul sito www.nonnoscatenato.com Accordi per le licenze? Sai che cosa farei io? Cosa? Implorerei il raperonzolo di c***o nella mia bocca dall'alto della sua torre del c***o. Ehi! Noi andiamo a Daytona. Se volete potete venirci dietro. In tutti i sensi. Non ci andiamo a Daytona. Il funerale di nonna è stato ieri. È lei che me l'ha detto sul letto di morte. Ributtati nella mischia. Sono 15 anni che non faccio sesso e voglio f***e, 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 f***e. Ora bonita. Ci godiamo lo spring break? No, non posso bere alcol. Soffro di retusso gastroesofageo. Devi farti una birra e non fare un p***e a un cavallo. Ops, di solito non mi succede. Di solito mi avvertono. Ah, la mia fidanzata, devo rispondere. Ah, mandala a c***are. Se te la sposi ti farai due palle e così. Gerson! Per una sera non preoccuparti del tuo matrimonio. Jeffy, confina! Lo senti il crack? Ho fumato crack? Sì, ma tipo un casino. Ho fumato crack! Zac Efron. Robert De Niro. Voglio ringraziarti per quello che fai per me, James. Non sarai mica nudo. Comodo e libero. Non ci credo! Nonno scatenato. Al cinema.